Un monumento che invece si riferisce al periodo pre-terremoto è il ponte di San Francesco, che sicuramente dopo la scala di Santa Maria del Monte è il secondo intervento di sistemazione urbanistica della città nella prima metà del 1600. Il ponte di San Francesco, appunto dal punto di vista urbanistico, era un collegamento molto importante perché permetteva alla città di spostarsi e quindi di allargarsi verso il quartiere di San Pietro. La costruzione del ponte, che venne progettato dall'architetto romano Orazio Torriani, iniziò nel 1626 e venne ultimata nel 1666, quindi 30 anni prima del terribile terremoto che sconvolse il Baldinoto. Il ponte è un monumento abbastanza imponente, in quanto è formato da cinque arcate, solamente una è passante, in quanto appunto vi passa una strada, mentre le altre quattro sono adibite a proprietà privata, quindi vi sono garage, botteghe. La costruzione del ponte permette di superare un dislivello tra le due colline, quella di San Francesco e quella di San Giuliano, di ben 15 metri e copre una distanza di 50 metri. Fu un'opera architettonica abbastanza imponente per la città di Caltagirone. Oggi, se appunto chi ha la possibilità di passeggiare sul ponte di San Francesco, può ammirare, diciamo, nelle balaustre che delimitano il ponte, dei decori in ceramica. Questi decori in ceramica non sono casuali, in quanto riportano anche due stemmi abbastanza ben, diciamo, riscontrabili, che sono lo stemma francescano e lo stemma comunale della città di Caltagirone. Questi due stemmi sono stati inseriti nella decorazione del ponte per ricordare che comunque la costruzione del ponte venne finanziata sia dai frati francescani, appunto, che si trovavano nella chiesa di San Francesco, da Sisi, sia dall'amministrazione comunale. Grazie Grazie Grazie